Dieci mesi di attesa. La parrocchia di Santa Maria Regina degli Angeli a Bugnuca, nella regione congolese del nord Kivu, è dalla notte del 16 luglio 2017 che aspetta il ritorno a casa del parroco Don Char Kipasa e del vice parroco Don Piera Chilimali, sequestrati da uomini con divise militari e passamontagna. Come racconta la cuoca Maria Cavira, erano le ore 21 quando i banditi hanno fatto irruzione nella casa parrocchiale e hanno portato via i due preti con due macchine rubate in parrocchia. Da quanto tempo è che non si sentono più i sequestratori? Tre mesi, tre mesi che non si sentono. Noi abbiamo paura che la gente fanno loro di male, li uccidono e poi... La prensione di Sor Desiderate è la prensione della comunità di Bugnuca, della diocesi di Butembo Beni e della chiesa, incarnata nella Repubblica Democratica del Congo per essere grido di libertà di un popolo represso dal governo malato di potere e oppresso da bande criminali che uccidono e mettono in fuga le comunità rurali per contrabbandare le risorse del terreno. E se Don Charles e Don Pierre tornassero in parrocchia non faranno altro che riprendere il cammino per la dignità del loro popolo. Forse è proprio questo che fa paura. Il vescovo di Butembo Beni, Monsignor Melchisedec Siculi, è tornato nella comunità di Bugnuca con Monsignor Antonio Stagliano, vescovo della diocesi di Noto con la quale la comunità congolese è gemellata da 30 anni. È tornato per chiedere, chissà qualcosa, faccia in modo che i due sacerdoti vengano rilasciati. Prendere i sacerdoti che stanno lì per fare servire tutti senza distensione è uno sbaglio.